Se andate su internet potete trovare molti video di persone che sgommano sulle auto. Ecco un esempio di ciò di cui parlo. Sì, so che cosa state pensando, stupefacente. Tutti stupefacente, ma lo è davvero? Beh, sì, lo è. Io non credo, può farlo chiunque. Non è vero. È vero, perché a ogni sbaglio l'inquadratura taglia sul contagiri o sul cambio di una marcia o sul tuo sguardo eroico e poi ritorna all'azione. È montaggio. Io credo che sia un po' più complicato. No, non è vero e ho deciso di dimostrarlo girando un video di drifting tutto mio. No, no, è semplice, serve solo del fumo e inquadrature del mio sguardo eroico. Perché lo fai? Per sembrare eroico. Così non lo sembra. Sì, vedrete. Ci divertiremo se... E come? Scommetto di no. E come? E come? E come? Grazie a tutti. 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 Ehi, 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 perché l'hai fermato? Perché? Perché faceva schifo. Ecco perché. Non faceva schifo, se lo stavano godendo, è vero? Perché l'hai fermato? Perché è una farsa, ecco. Dov'era la farsa? Prendiamo l'inquadratura dei contagiri, vediamola. Ok, 6 a 6.750 giri a 0 km orari. Il tachimetro era rotto. Ah, sì, 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 è così. Aspetta, che mi dici di quel punto in cui ballavi con i piedi sui pedali? Abilità? Davvero? Sì. Aspettate un attimo, volete vedere come ha fatto nel video non montato? Sì, vorremmo, sì. C'è una GoPro qui? Potrei inquadrare i miei piedi che fanno su e giù sui pedali? Sì. Bene. Tacco punta, tacco punta. La smuoviamo un po'? Così sembrerai in marcia. Così, ecco. Sì. Poi ci metti questa inquadratura ogni tanto. Sì. Cambia pure marcia. Le finestre nei, le modifichiamo. Serve un'inquadratura del contagiri? Mettiamo una telecamera qui, come quell'altra. Ok. Usiamo quella ai piedi. Sì. Fatto? Sì, funzionerà. L'ho tenuta così e non sembra in folla. Non sto solo alzando i giri. Alzando i giri, capito? Aspettate, aspettate. Poi c'era la scena in cui facevi il giro tondo nel fianile. Ricordi? Cosa? Sì. Ricordate? Chi vuole vedere il filmato, il filmato non montato. Eccolo qua, tutto per voi. Che scena è? La quarta? Dalla seconda alla settima. Devo solo sembrare eroico. Sì, ma devi mettercela tutta, ok? Sì. Posso farlo. Vent'anni di pratica. Faruncana, introduzione prima. Freno a mano. Ho sbattuto. Diamine. Tutto a posto? Presa? Ho tosto bene. Ben fatto. Non è andata bene, però. Vero? No, con terribile disappunto. No, 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 no. Non c'è tempo per le tue sciocchezze. Sì, c'è. Non siamo arrivati a dove oltrepassi il cancello, ricordi? Per l'amore del cielo, nessuno. Chi vuole dare un'occhiata? Nessuno, no. Mi gira. Faruncana, il cancello, prima. Ci siamo. Oh, merda. Ho preso qualcosa. Mi dispiace, Phil. Perché non riprendiamo tutto da questo lato? Non posso. L'auto gira costantemente. Sarebbe bruttissimo. Ma se si vede appena. Non è vero, guarda. Aggiustiamo il cancello e ci riproviamo. Il cancello, seconda. Concentrazione. E gira, frena. Oh, scello. L'ha rifatto. Che idiota. Non sai farlo? Sì. No. L'ho preso una volta. No, non riesci a passarci pulito. Dammi, potete aggiustarlo un'ultima volta? Vuole rifare? Non ci credo. Ho capito. L'angolo di entrata è stretto. Partirò da questo lato della parude e giro. Il cancello, terza. Quando sei pronto? Ci gira. Freno. Quando sei pronto? Ok, ci siamo. E freno a mano. Oh, merda! Quello era... Sai cosa? Non ci crederai, ma volevo tirare il freno a mano. Invece ho cambiato marcia. L'ha incastrata? Sì. Almeno non dobbiamo aggiustare ancora il cancello. Esatto. Visto? Questo pensare positivo mi piace. Ma va bene, però. Cosa? E anche peggio. Phil, facciamo guidare l'altro tipo. Andate a prendere Mark. Non fate vedere... Lui è il tre volte campione inglese di rally Mark Higgins. Devi arrivare da lì. Io andavo a circa 130. Non ci sono riuscito per poco, quindi se arrivi da lì, di lato, dai gas, levi il gas... Devi metterti questa, è una di quelle che usano a Hollywood. Ma come faccio a vedere? Vedrai attraverso questi buchi. Mettila. Funziona. Le usano gli stuntmen di Hollywood. Gli spettatori penseranno... Come specchiarsi? Guardate. Cosa? Sul serio, potete dire che non è... Guardate. Identici. Mettete il casco. Sopra questa? Sì. Sei un ufficolo. Sei crudele. Volete vedere Mark adesso? Sì. Vediamo? Sì. Oh, incredibile. Davvero. Guardate. Questa è crudeltà gratuita. Comunque, sentite, ho usato Mark per quella scena. Lo ammetto, sì. Sì, è vero. Peccato che tu non l'abbia usato per la scena delle pecore. No, quella no, no. No, 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 sul serio, non mostratela. Clarkson, dimmi quando sei pronto. Devo far entrare queste pecore in quel recinto in maniera eccitante ed esuberante. Alla YouTube. Andiamo. Velocità e potenza, ecco. È stato nulla. Mancano quelle pigre. No, ma... Andiamo. Oh, merda. Non ci posso credere. Senti, posso radunarle lentamente, il che è noioso per un programma. Oppure posso darci dentro, che è più eccitante per i telespettatori. Ma... ma sbatterei contro le pecore. Hai fatto fuori una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici pecore. E il parabrezza. Quello è l'ultimo dei nostri problemi. Non in termini di continuità, perché è difficile da nascondere. Non si fa così. Come si fa? Non si va a sbattere ogni cinque minuti. Non l'ho fatto. Sì che l'hai fatto e hai ucciso degli animali. Ma che pecore! Cosa? No! Per favore! Non applaudite! È un assassino! Sarebbero... Sarebbero maglioni adesso. O... o un pranzo. Non è la fine del mondo. No, ma la prossima scena stava per esserlo. Che c***o faccio? Non possiamo girare con quella. Phil! Esci! Puoi ribaltarla quando hai un attimo? Ok. Come sentirsi Richard Hammond? Grazie! La tagliamo, eh? Non possiamo. Guarda, è completamente... Guarda cosa! È la portiera! Guarda! Non possiamo più usare il drone. Qui è frantumata. La ruota non va. Cavi che esco... Come sei pignolo? Funzionerà! Vediamola da qui, dai! Funzionerà la grande. È distrutta. E non mi hai chiesto se sto bene. Stai bene, hai il casco. Bene. Ho messo a repentaglio la mia vita, ma non importava a nessuno. D'accordo. Che c'è? Ora vediamo la fine del tuo filmato. Il gran finale? È stato pazzesco. Non è vero. Sì, è vero. No, ma qui, signore e signori, Jeremy cerca di saltare da una riva all'altra di un fiume. Ci sono riuscito. Non è vero. Non è vero, come stiamo per dimostrare. Salto del fosso prima. Azione, azione. Chi siamo. Scusa? Che coglione. Che c***o l'hai rotta? Sì, lo so. È quasi fatta. Guardala, guardala. Lo so. Usiamo... Non abbiamo il finale. Usiamo l'altra auto. Dovevi arrivare dall'altro lato. Che stanno. Ho un'auto di riserva, usiamola. Finito? Basta così? Sì. Bene, bene. Aspettate, aspettate. Vogliamo andare avanti? Diamoci un taglio. Aspettate, aspettate. Vogliamo vedere il gran finale del filmato di Jeremy e la sua auto di riserva, giusto? Sì. Giusto. Sì. 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 Oh, merda! Bene, mi dispiace. Aspetta, la tua auto di riserva era un Audi? Ok, voi avevate capito che era un Audi? L'hanno notato tutti, perché era ovvio. Perché non spiegate come fanno i maghi a tagliare le loro assistenti in due? Non lo so. Esatto, perché è magia. La gente non vuole saperlo e nessuno voleva sapere come era stato girato il mio filmato. Avete rovinato l'anno a tutti. L'anno? E con terribile disappunto è davvero tempo di chiudere. Grazie per averci seguiti. Chiedo scusa per loro due. Arrivederci!